Musica Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xiuder e ragazzi eh si ragazzoni ci siamo ragazzi oramai siamo praticamente arrivati alla fine una manciata di ore ci dividono ancora ragazzi dal termine della season numero 5 e ci accompagneranno alla nuovissima incredibile season numero 6 che inizierà proprio questo giovedì questa season 5 ragazzi è stata veramente veramente molto interessante a me è piaciuta particolarmente grazie anche a tutti i suoi contenuti che hanno comunque contribuito a migliorare il nostro fortnite sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista del gameplay insomma ragazzi abbiamo veramente viste tantissime allacciandoci ancora nella ex season 4 alla fenditura nel cielo abbiamo visto come sia stata modificata ulteriormente la mappa e come c'è stato questo cubo incredibile che di certo tutti ci ricorderemo nei nostri anni a venire di gioco in fortnite e anche grazie all'inserimento dei mini games vedi ad esempio il mini golf dei veicoli vedi ad esempio il caddy e di un sacco di altre funzioni che a parer mio sono comunque assolutamente scelte azzeccate e anche se molti dicevano i veicoli è un azzardo ci stanno ci stanno ragazzi abbiamo visto che non è neanche tanto pesante alla fine andare in giro con il caddy non è una cosa che va a modificare così tanto il gioco insomma ragazzi grande scelte da parte di epic games questo finale di stagione ragazzi si chiude con il deltaplano relativo alla valchiria quindi abbiamo visto tutti ragazzi il nostro meraviglioso frostwing che vediamo qua dietro in movimento e ragazzi la valchiria che in questa immagine è assolutamente molto interessante perché come vedete ragazzi si sta sedendo su un trono è seduta su un trono questo ragazzi fortifica veramente veramente parecchio la teoria che già avevamo ipotizzato e avanzato qualche settimana fa dell'arrivo del castello di ghiaccio su fortnite gli youtuber americani ed esteri lo chiamano l'ice castle quindi ragazzi lo avevamo già visto ve lo faccio rivedere con un attimo di pazienza noi abbiamo intanto meraviglioso il frostwing vabbè veramente uno dei deltaplani più epici di fortnite indubbiamente ma voi ricordate queste immagini ragazzi questa era relativa al ballo non mi ricordo qual era ma era stata pubblicata direttamente sulla pagina twitter di epic games e in molti avevano notato che là sulla destra svetta tra le due montagne una serie di bandiere che sono molto molto particolari molto molto controverse facendo dei calcoli ragazzi si è pensato e si è tirata la conclusione che queste bandiere potrebbero essere relative al castello e come sappiamo ragazzi non è la prima volta che il battle pass di fortnite ci regala dei piccoli spoiler e il nostro spray relativo al crazy castle potrebbe essere la conferma che questo castello arriverà veramente non sapevamo quando adesso invece ragazzi sappiamo che potrebbe arrivare nella nostra nuovissima season 6 tra l'altro ragazzi ci sono ancora tantissime cose relative al cubo all'evento del cubo che sicuramente ci porteremo avanti ancora per la prossima season non pensiate che è tutto finito qua ragazzi il alcuni dei nostri amici nel gruppo dei leakers sono riusciti ad andare sotto la mappa con la telecamera del drone nella modalità replay e hanno visto che da sotto guardando verso l'alto intorno alla casa del lago si sono formate delle rocce gravitazionali ma non come quelle che avevamo in mente noi quando c'era il meteorite ad Astidepot delle rocce che sono assolutamente uguali a quelle che ci sono nelle aree dove sono state stampate le rune dal cubo quindi ragazzi è probabile che arrivi in fortnite una nuova area gravitazionale che dovrebbe sostituire l'effetto bouncer che il nostro lago in questo momento ha che è assolutamente divertentissimo e meraviglioso ma che è meglio comunque non tenere per così tanto tempo appunto per non stravolgere esageratamente tutto il gameplay tra l'altro ragazzi abbiamo visto anche che arriva un'altra cosa molto molto interessante e molti mi avevano detto in un mio vecchissimo video avevo preso una valanga di insulti quando vi avevo mostrato una skin che era stata recuperata dai miei leakers nei file di gioco oggi ragazzi nel negozio arriva la stella ammantata incredibile ragazzi una skin dovrebbe essere relativa a save the world quindi un altro ninja comunque che come vedete fa il suo ingresso proprio oggi in fortnite skin veramente meravigliosa molto molto bella cercheremo ragazzi di capire se questa stella ammantata abbia qualcosa a che fare con la season numero 6 o semplicemente è stata inserita nel nostro shop come ultima skin di questa season numero 5 non ne arriveranno più di skin nuove questa era veramente l'ultima non sappiamo bene se abbia qualcosa a che vedere staremo ovviamente a tenervi aggiornati ma prima di concludere ragazzi c'è veramente una cosa interessantissima che è presente nei file di gioco e che non sappiamo se sia veramente relativa agli ultime ore della season 5 oppure alla season numero 6 ve lo voglio fare vedere magari molti di voi l'avranno già visto questo è il castello di prima state pronti 3 2 1 mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo aspetta che non parte aspetta che non parte ragazzi questo è un backpack incredibile che è stato recuperato nei file di gioco e si chiama portale oscuro ragazzi quindi sembrerebbe davvero tra l'altro se lo guardiamo bene è molto in stile medievale comunque fantasy ci sono delle catene in alto ci sono addirittura le punte che potrebbero essere quelle del castello che abbiamo visto anche prima e ovviamente è assolutamente visibile al centro questo vortice blu questo portale che potrebbe davvero confermare la teoria e solidificarla sul fatto che nella season 6 ci sarà tutta una sezione oscura della mappa che potrebbe essere popolata dai doppelganger che sono ovviamente le nemesi dei nostri personaggi principali quindi ragazzi con questo video noi diamo l'addio alla season numero 5 la ringraziamo per averci fatto divertire per parecchi giorni per averci accompagnato per tutta l'estate e prestissimo daremo il benvenuto alla season numero 6 ovviamente qua ragazzi sul canale non mancheremo di rimanere collegati tutta la giornata di giovedì dalla metà della mattina fino al tardo pomeriggio per vivere assieme la nuova season 6 un hype pazzesco vedremo se nella mappa arriverà anche la parte di ghiaccio relativa ai vichinghi io vi invito ragazzi a lasciare un bel like se vi è piaciuto questo video mi raccomando ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e a rimanere con me in live per tutta la season numero 6 noi ci vediamo in live ciao ciao Grazie a tutti